Ciao a tutti ragazzi e bentornati, buon inizio di settimana a tutti, ci vuole entusiasmo, abbracciamo l'inizio di settimana, tutti insieme. Prima di iniziare però ovviamente vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi, mettete like, commentate, partecipate, stasera torna il calcio mercato del popolo. Due ospiti li so già, poi lascio le porte aperte a chi vuole entrare, degli altri miei amici, ci sarà Mirko Di Natale, giornalista e Nino JFC, mio amico. Possibili ingressi di Kinoushi, forse Davom e qualcun altro, quindi mi raccomando, ore 23 in contemporanea col buon Di Marzione e dopo la partita degli europei. Prima però anche di iniziare vi invito a scaricare l'app di OneFootball ragazzi, scaricatela, è gratis, è free, è ottima, Android, iOS, no problem, rimanete così aggiornati sul calcio. Questa settimana che sta per arrivare è inoltre importante, non solo perché andremo a giocarci sabato a Wembley, un ottavo di finale meraviglioso contro o Ucraina o Russia, ma perché a livello di mercato, che è una cosa che a noi juventini ci preme un po' di più, ci saranno sicuramente delle svolte progettuali sul mercato che sarà fatto poi dalla Juventus. Perché vi dico questo? Perché ci sono degli incontri che saranno dei crocevia, dei bivi, stiamo arrivando a dei bivi e da là, in base alla direzione che decidiamo di prendere, ecco a quel punto cambia la strategia di mercato. E questo è il senso. Ho fatto un video, Romeo e Agresti, la notizia è che ci saranno ben due incontri, ben due incontri, con diversi entourage. Passiamo subito al primo, Ronaldo, banale, ma Ronaldo, insomma, la Juventus e Cherubini incontreranno Mendes e da lì credo che possa partire, poi possa innescarsi il cosiddetto domino del mercato, perché se Ronaldo dice, signori, arrivederci e grazie, levo le tende, è stato bello, breve ma intenso, e a quel punto c'è un'offerta chiara magari da altre squadre, perché poi, insomma, a quel punto Mendes dovrà adoperarsi per trovare 29 milioni, ecco, che è il costo del, per non fare minus valenza, è il costo minimo di Ronaldo. A quel punto si potrà presentare una squadra, prende Ronaldo, ci dà questi 30 milioni, noi ci liberiamo di un costo importante e a quel punto possiamo pianificare una strategia. Dovesse invece rimanere Cristiano Ronaldo e la Juventus, insomma, opprime un pochettino la nostra capacità di spesa e a questo punto dobbiamo, insomma, riflettere su altre strategie, magari su altre cessioni, magari su altri modi per cercare, insomma, di avere sfiato sul mercato con acquisti di una certa importanza. Per cui l'incontro con Mendes sarà un crocevia chiave del mercato e avverrà questa settimana. Ora io vi dico, ragazzi, io non mi fascio la testa, ve l'ho già detto, per me è un 50 e 50. Cioè, se Ronaldo decide di rimanere, bene, cerchiamo di allestrighi una squadra quanto più forte possibile per cercare di raggiungere grandi obiettivi. Dal campionato alla Champions per fare più strada in Europa, con un gioco, con diverse cose. Bene, se dovesse rimanere. Se invece dovesse andare via, e me ne faccio una ragione, signori, è, va via Ronaldo, la Juventus si attrezza, ha più possibilità di spesa e va a, insomma, modellare certi reparti che sono carenti da ogni punto di vista. Ora io vi dico, la priorità è il centro campo, ma anche se dovesse andare via Ronaldo. La priorità, per me, rimane sempre il centro campo. Cioè, dobbiamo cedere qualcuno. Ramsey andrà via. Ramsey andrà via. C'è anche l'incontro con Ramsey, ma di quello poi ne parliamo dopo. Non è tra i due che ho menzionato. Il secondo incontro, invece, importante è quello con Carnevali, perché è stata fatta un'offerta così, è stata bozzata. St'offerta, dobbiamo aspettare il risponso, ragazzi, del Sassuolo. Cioè, 30 milioni più Dragosin. Poi vediamo un po', non c'è stata ancora una risposta chiara, ufficiale. Aspettiamo l'evolversi della situazione. Però Cherubini incontrerà Carnevali, perché vuol dare un'accelerata a questa trattativa. Locatelli, voluto fortemente dalla Juventus e dall'Egri stesso, è l'obiettivo numero uno del mercato. Per cui, piaccia o non piaccia, questa trattativa si farà. Ronaldo o non Ronaldo. Questo sarebbe il primo colpo della Juventus. Io lo sapete benissimo come la penso. Per me è da prendere. Se tu credi che possa essere fondamentale e determinante per il tuo gioco, che abbia delle caratteristiche che altri in rosa non hanno, che è il tassello che è importante per il tuo centrocampo, lo fai, lo prendi. Anche sacrificando un giovane importante. Ora, su Dragosin effettivamente ci sono diverse correnti. C'è la corrente di pensiero che dice che ha rinnovato avendo la certezza di rimanere alla Juventus e quindi non andrà da nessuna parte. Può darsi. Per il Sassuolo ha una lista di giovani. C'è Fagioli, Frabotta che pare vicino al Genoa, intanto non è stato ufficializzato, non c'è ancora nulla. Occhio anche a Frabotta che potrebbe piacere al Sassuolo, perché al di là di Marlon c'è l'idea anche di vendere Ruggerio. Quindi aspettiamo un po' l'evolversi là. Potrebbe essere anche Frabotta, il nome che piace Garba al Sassuolo. Però vado a stare che si parlerà, si parlerà di Locatelli Jay in questa settimana e quindi qualcosa, qualche bozza, qualche risposta, qualche evoluzione la avremo. Guardate bene che questa è una settimana, ragazzi, tosta. Dal punto di vista mercataro, puro, è tosta questa settimana. Perché vi dico questo? Perché Ronaldo decide il mercato e si incontrano in settimana con Mendes. Locatelli si dà un'accelerata a questa trattativa e anche ora, perché altrimenti, ragazzi, a lungo andare c'è il rischio che si inneschi un'asta pericolosa. Non lo so com'è la situazione. La sapranno bene gli operatori di mercato che stanno là, tastano il posto, conoscono il posto, sentono le voci, capiscono che cosa c'è dietro. E a quel punto, insomma, bisogna cercare di dare una bella sterzata e portare a casa Locatelli. Anche perché Locatelli vuole solo la Juve. E quindi questa è veramente un'arma forte per la Juventus per cercare di chiudere e stringere in tempi brevi. Poi, per quanto riguarda Ramsey, Ramsey non sarà un giocatore della Juve l'anno prossimo. E' anche vero che, secondo il buon Romeo Nagresti, lui deve un po' tagliarsi lo stipendio. La Juventus vuole una cifra vicina ai 15 milioni, ma io credo che se ne franno 10 la Juventus la molla subito, è tutta plusvalenza. Ragazzi, che vi posso dire su Ramsey? Mi sembra un così bravo e caro ragazzo che ha cagato fuori nelle sue dichiarazioni a mezzo stampa. E' una roba che non mi è piaciuta. Forte, bravo ragazzo, ma il classico pesce fuor d'acqua che rende dentro la sua zona di comfort e di conoscenza. Tolto fuori da là, mi pare sempre un po' spaisato, un po' anche sempre rotto, ecco. Ha fatto più dal G Medical che con la Juventus. Molto precaria la sua situazione fisica. Ragazzi, se ce ne liberiamo è un bene. Giro e rigira, alla fine si è ribaltato il pronostico. Tra i due noi tutti avremmo pensato agli inizi che rimane Ramsey e Rabiot fuori dalle scatole. Invece no. Cavallo pazzo Rabiot, si è preso la squadra e lì può essere una pedina importante per il centrocampo di Allegri e rimarrà la Juventus e invece vedremo fuori Ramsey. Guardate bene, avete visto come cambia il coso, come cambia l'idea e come cambia il calcio che in un anno, insomma, si ribaltano le certe situazioni. È sempre il campo a parlare, il campo ha sempre ragione. Il campo dice che tra i due sicuramente, da ogni punto di vista, ha reso molto di più Adrian Rabiot rispetto al buon Aaron Ramsey. Per cui questo è. Signori, questo è tutto. Noi ci vediamo tonight, ore 23, calciomercato del popolo, mi raccomando, con il buon Nino GFC, mi ricordo di Natale e tanti altri ospiti che cercherò di riclutare nel pomeriggio. E niente, niente signori, ci vediamo più tardi. Iscrivetevi, mi raccomando. Ciao!